Questi li abbiamo trovati per terra già strappati Cosa ciccio? Possiamo di più che stavano fatti Noi siamo per il tuning Comunque l'effetto c'è Ciccio, giorno 2 Non avrei mai pensato che Giovanni Mucciaccia mi avrebbe fatto fatturare un giorno Sei fiero? Come no? E anche questo set è finito Ciao 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 Ciao